posso farlo ma ci sono i buchi non lo fa un culo ho fatto se la battaglia di palle di neve ti distruggono ma dobbiamo dobbiamo saltarci perché ci conosco andiamo a fare la battaglia di neve oh, che sorpresa! ce l'ho su un quarto a capire sorpresa se volete giocare alla battaglia a palle di neve? ok, leggi tu che non è l'oggetto è che volete prendere dall'altra parte del lago ghiacciato se l'avete avversato il premio e se la vostra lo ricordate dovete prima sbalazzarvi dei vichinghi ah beh, cazzata proprio solo perché sono un diavolone che sono così forte ma ti lancio? oddio aspetta, rompi questo tantissimo, aiuto devo romperlo tantissimo aspetta forza dirompente forza dirompente incredibile e perchè devo trompare? uno, ne hai dato uno pensavo di più ok, guarda, perfetto allora oh, vichinghi vieni qua vieni qua vieni qua su se ne è uno? si e un altro la, a testa oh, vichinghi wow, palmi di neve, incredibile signori amici eh, i nano quando hai dato tell devo stas che paura vieni qua vieni qua dai scionur con le palle di neve in che modo? ah ok non sei stupido? no non so perchè l'ho lanciata non è stata solo ok ok perchè l'ho lanciata? io mangio le palle di neve tu sai che ti mandare io io vado a mangiare aspetta facciamo così tu mangio le palle di neve a me merda lascia venire un po' oddio è stupendo merda che merda aspetta che vado vicino eh bastardo muorici va bene divertissimo oh guarda è diventato piccolino ma aspetta venga venga qua che io non so dove ah niente ok beh si si teletrasporti aia ok adesso un po' uno puntino per te attento ah tento io mangio nemamo mi non so ns ma aia sicuro Difficile Sto cadendo, sto cadendo, aiuto, aiuto Sto cadendo, che? Voglio il cibo o che? No, non adesso Voglio il cibo No Allora, che voglio mangiare, va bene Eh, no Dipende dai metri più sbagliati Vai, e chi si scopre? Rivi, bastardo Non Alla prossima avventura Chi sarà contro un altro vichingo Menti che mangerò Tu non sono più fai le tue cose Con il vichingo Oddio Oh vichingo Vieni qua Oddio Desu Non ti fai Oddio mi ha lasciato, mi ha lasciato ok aspetta eh, faccio una cosa molto intelligente stavo facendo la stessa cosa ma l'ho fatto sbagliato ah, merda tu, scusa aspetta peh mi sfida in due smalte no, merda bam aspetta eh, scusa mi raccomando non troppo dai, scopriti, ridi, basta ma, perché l'ho persa? perché ti ha colpito oh, cosa vuoi? ma, sto ingassando io eh, lo so ma bastardo e andiamo poi carote anche se lo digerisco è bassissimo mi sa che è l'ultimo spuntino o l'ultimo penulti oh, scusa ci stai venendo in faccia, mastardo no, non è ancora figo oh, là c'è una collinetta buono via aspetta, vediamo di solo via via no, no, questa le beze no, non c'è nessuno ok spacca il mondo tec 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 che brutta cosa ehm sì, qualcosa che non va sì bisogna dire una cosa ah, ho capito ahhh si, anche io si, si ho capito ok, ok me mndp 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 io non posso naturalmente ehm ew so lo, 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 lo drrrr lr assorbito d'acqua in qualche modo e tra l'altro è diventato neve da ghiaccio e niente io prendo questo il mettino piccolino non tu prendi non si può neanche fare quello e poi palestra, che roba, che muscoli io io vado direttamente sui cose di ghiaccio meglio sì ah mi lancio a caso tanto funziona lo stesso sì la torima devono ingrandirsi poi ci devo mettere esattamente in parallelo quindi e ancora uno stendo sopra oh ma io non so più saltare sono ingassato vedi è ingassato start già sono le pali di niente se ti eri in mano è bene se mi colpisci ti spacco questo ghiaccio sul testo mi capisco mi sappi che è grande guarda la cute grande non sembra ma oddio oddio oh salta problema 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 ma beh facciamo una qua no no palle no pacco di poste in arrivo eccolo lì l'uomo c'è il grado l'uomo 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 posso mettere su questo quattro l'uomo no 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 non lo puoi aggiungere anche tu che già pesa Ah! Puglia! 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 Lanci! Vada! Ancora uno? Mi sa di... Oddio! Però non so dove sia! Ah! Il primo è entrata! Certo! Senti la musichetta cangiante! Ah! Ma non l'avevo ancora potuto su qua! Buongiorno! Ah! Solo l'ha detto il palla! Eeeh! Yeh! Ma c'è anche la difesa! Ah! Sai che era l'ultimo quello più facile abbia mancato? Nooo! Devo tirar su dei pezzi di ghiacci giganti! Non devo mangiare! Guarda! Ha schivato dall'altro secolo! Vai! No! Nooo! 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 Dai! Dai! Forza Bugs! Oh! Finalmente! Solo per diventare obeso! Andiamo! Andiamo! Oh! 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 Se muori sei morti! Se muori sei morti! Eh beh! Se muoio sono morto! Mi sa che ti sembra un minuto per arrivare sopra! Eh! Questo lo dici tu! Eeeh! 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 Facciamo una cosa sensata! Tornare dalla centrale! Cos'almeno stiamo qui a tornare indietro! Perfetto! Perfetto! Eeeh! 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 Guarda questi buchi! Scusi! Non starei parlando! Questi qua! Mi sarei un po' un drastico! Quali buchi? Quelli lì! Cosa devo fare? Eeeh! 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 Ok! Vai dentro! Tu! Che non sei altro! Eeeh! Ottimo! Bravo! Che forza! Convivenza! E' un po' meglio! Da qualche tempo fa! Siamo così! No! Non posso tenere a sportare! Siamo un verme! Eeeh! Ok! Adesso! Che si fa? Di bello? Boh! Sì! Cosa? Basta ballare! Ah! Non è che riesce a girarlo? Fa qualcosa? Sollevarlo? In quel momento posso girarlo! Perchè qui c'è una freccia! Così non è! Si! Così non è! 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 Perchè ce n'è un altro qua! Ah! Giusto! Eeeh! Zek! Eeeh! Eeeh! Mi sento una? Eh! Che palle! Che palle! Devo dare una volta! Gioco della Loki! Attenzione! 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 Grazie.